musica 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 buona ragazzi qui con Jake's player siamo qui su un nuovo mini video vlog per dirvi che sabato questo che sta arrivando quindi il 21 no il 22 aprile 2017 mi trovate a Torino Comics Torino Comics è una fiera di cosplay, gameplay youtuber, se cosa vale che ci mettiamo insieme e facciamo tanto bordello, casino in modo di dire se ci conteniamo possiamo farci due risate possiamo parlare, possiamo cambiare insieme, possiamo fare anche due foto che problema c'è ripeto io ho 1500 iscritti che non mi interessano che per la fine ripeto ehm non sono youtube né piccolo né grande ne sono un emergente mini di 1000 iscritti e beh ragazzi vabbè queste parole sono un po' senza senso lo so lo so lo so lo so e non è che se uno dici tu cambia tutto e decido di di chiudere ripeto so i miei problemi e quindi non mi puoi dirmi e non sai parlare come fai a fare i video se non sai parlare di scherziato fai schifo cornuto e tutte cose fa deficiente e boh si qui cornuto forse non c'entra un cazzo ma vabbè parola a caso e boh dai ci vediamo chi viene a torino comics ci vediamo sabato sabato ci sono sicuro domenica lavoro faccio il mercatino quindi non posso esserci adesso che è venerdì che carico il video potevo esserci ma alla fine ho cambiato idea con i miei amichetti di turino e qualche fan che mi segue con i suoi amicetti e boh ci incontriamo poi a turino comics sabato dalle 9 fino alle 8 se ci riesco eh ciao ci vediamo